Sconfitta messa in conto? Assolutamente no. Sabato al comunale di Tremestieri Etneo il riposto calcio ha sfidato i neroverdi del Pedara, gara che si è conclusa sul 2-1 per i padroni di casa. Che fosse una gara difficile lo si sapeva dalla vigilia ma quando Anastasi incocce il 7 da calcio piazzato al 36esimo della ripresa ristabilendo la parità per un attimo tutta la tifoseria gialloverde ha iniziato a crederci. La posizione in classifica del Pedara si è palesata fin dai primi colpi della gara e non è tardata la marcatura per i padroni di casa dai piedi di Germana già al primo minuto di gioco. Al Pedara 20 minuti dopo viene concesso un calcio di rigore che poteva chiudere già la contesa ma la parata del portiere greco mette subito in chiaro che il riposto non è andato a Tremestieri per una passeggiata. Tomaselli coglie l'occasione per dare uno strappo alla gara, subentra ad Arrigo per tentare lo strappo passando a contropiedi veloci per sorprendere la retroguardia. Il primo tempo finisce sull'1-0 per il Pedara. Nella ripresa il riposto scende in campo con lo stesso atteggiamento dimostrato sul finire del primo tempo e come detto poco fa Anastasi da calcio piazzato buca la rete del Pedara ristabilendo la parità 1-1. Due minuti più tardi la svolta negativa per il riposto, un fallo su Anastasi a centro campo non fischiato dal direttore di gara e successiva reazione del calciatore ripostese sfociano nel rosso pesantissimo proprio per Anastasi. Da lì la gara svolta a favore del Pedara che poco dopo al 41esimo per l'esattezza trova la rete con mazzaglia di testa su calcio d'angolo. Il rammarico per il riposto è fortissimo visto che la gara era difficile ma gestibile. Un arbitraggio non proprio equo ed imparziale hanno spostato l'equilibrio della partita a pannaggio dei neroverdi. Archiviata la batosta il riposto guarda con attenzione alle prossime due giornate. All'Averna verranno prima Zafferana e poi il piano tavola. Per Tomaselli queste due gare valgono la stagione e alla fine dei 180 minuti regolari si potrà fare il primo sommario bilancio della stagione.